Lunedì 8 gennaio Parco Miralfiore, locale Serra degli Agrumi. Riparte da qui l'avventura di Utopia, riparte da oggi dopo l'esperimento fortunato di successo di questa estate negli spazi del cortile dell'alberghiero Santa Marta. L'associazione Utopia, legata e nata dalla Onlus Gulliver, riparte con un'esperienza di lavoro inclusivo, con un'esperienza di ristorazione e di recettività davvero molto particolare che è pronta ad accogliere nuovamente i cittadini pesaresi. Oggi apre ufficialmente il bar Trattoria Sociale Utopia al centro del Parco Miralfiore, tanti ragazzi contenti, tante persone anche da questa mattina. Iniziamo questa avventura, speriamo che ci porti lontano. Dalla mattina alle 7 fino alle 6.23 saremo aperti. Mattina abbiamo colazioni con prodotti fatti dai ragazzi, torte, biscotti, pasticceria, tutto interamente fatto dai ragazzi la sera o la mattina stessa. A pranzo avremo un pranzo normale, quindi un primo, un secondo, insalate e piadine e la sera cena con due primi o due secondi a scelta. Musica del vivo quasi tutte quante le sere, dalle 19 aperitivi, quindi un ambiente caldo, caloroso che aspetta che l'intera città lo abbracci. Il Festival ci ha permesso di sperimentare una miscela di lavoratori che siano lavoratori con disabilità e senza disabilità insieme. Il Festival ci ha fatto comprendere che la città è pronta ad accogliere questo nuovo sistema lavorativo, queste nuove imprese sociali e ha risposto con grande fiducia. Quindi questo qui è il primo ramo lavorativo vero e proprio, quindi adesso dobbiamo ritornare tutti al Parco Miralfiore, che è un luogo centrale, centrale per la città. Diventa un simbolo questa centralità che ci dà l'opportunità di parlare di lavoro in modo differente. Siamo pronti a accogliere la diversità e di incontrarci con la diversità. 60 ragazzi che ci seguono, avremo 15 ragazzi per turno, dal lunedì al venerdì quei ragazzi che hanno finito la scuola, le varie scuole di Pesaro. Nel weekend avremo invece i ragazzi dell'Alberghiero, del Cecchi, del Mamiani, del Mengaroni, tutti quei ragazzi che ancora frequentano la scuola ma hanno voglia di mettersi in gioco e costruire insieme a noi.